Freedom, oltre il confine. Castel del Monte, emblema del potere imperiale. Un castello tra i più spettacolari d'Italia, una costruzione imponente, perfetta, unica al mondo, ma anche enigmatica. Sulla sua reale natura si discute da anni e c'è chi è convinto che la fortezza di Federico II in origine non fosse un castello. È uno dei monumenti più famosi e più visitati del nostro paese, considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO sin dal 1996. È Castel del Monte, una fortezza a pochi chilometri da Andria, in Puglia. A costruirlo, circa 800 anni fa, è stato un grande imperatore, Federico II di Svevia, soprannominato il fanciullo di Puglia, o anche Stupor Mundi. Ciò è meraviglia delle genti, un uomo di grande carisma e di grande cultura, con idee politiche all'avanguardia e capace di guadagnarsi fama e popolarità in tutta Europa. Intorno a lui si sono sviluppati miti e leggende, nel bene e nel male, già quando era in vita. E diverse leggende sono sorte anche intorno a Castel del Monte, un edificio che secondo molti non sarebbe un vero castello, ma sarebbe stato realizzato per assolvere a finalità diverse da quelle militari. Sì, ma quali? Nel corso degli anni sono state ipotizzate teorie diverse, ma su una cosa tutti concordano. Castel del Monte, certamente, rappresentava il simbolo terreno della sovranità imperiale di Federico II. Visibile da chilometri di distanza, anche dal mare, grazie alla sua posizione dominante sull'altopiano delle murge, si innalzava come un emblema del potere.